Ciao, ciao, ciao Vabbè, fammi il video Signori, siamo in Abstenauard Solo per quelli stanno Ehm, ma ti può dire che se me le le sto scagnate, sai Sopra? Sì, sì L'importanza è che hanno preso il borcello e il maione Sto a posto, sì Ok, allora vado Tra un'ultima di nuovo, distribuito tutto Ok Raffaele Tedeschi in Gonçol 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 no 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 come on it's alternative time alternative moments it's transillusion 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 e finita la lesbina Mario porca miseria ladra e si ferma la macchina tra un po' e si ferma la macchina tra un po' n fa gio pi mas mimic 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4